La tragedia accaduta sulla marmolada ha riportato prepotentemente in primo piano un tema, gli effetti dei cambiamenti climatici sulle nostre montagne, in particolare i ghiacciai. Non possono lasciare indifferenti i dati contenuti nel dossier realizzato da Arpa Lombardia in collaborazione con Enel. La campagna che si è appena conclusa ha messo sotto la lente lo snow water equivalent, che in italiano sta per equivalente idrico della neve, è la massa dell'acqua di disgelo per metro quadrato che risulterebbe se il manto nevoso si fondesse del tutto. Una stagione di accumulo eccezionalmente secca, aggravata nei mesi di maggio e giugno da temperature nettamente superiore alla norma, si legge nello studio, ha provocato una scarsità di neve senza precedenti sui ghiacciai lombardi. I giganti bianchi monitorati sono stati il Vioz e il Dosegu nel sottogruppo del Cevedale San Matteo, l'Alpe Sud sul Monte Sobretta, i ghiacciai dei Vitelli nel sottogruppo Ortles Cristallo, l'Adamello, il Fellaria nel gruppo del Bernina. I campionamenti sono stati svolti alle quote comprese fra i 2.763 metri alla fronte della Pisgana e i 3.260 del Fellario orientale. Sono stati riscontrati spessori della neve notevolmente inferiori rispetto agli anni scorsi, spiega Arpa Lombardia, fatta eccezione per le zone di accumulo superiori ai 3.500 metri, dove la situazione non appare altrettanto grave. I quantitativi di neve misurata, si legge nel dossier, e le scadenti caratteristiche fisiche e meccaniche interne al manto nevoso sono presagio di un'estate drammatica per il glacialismo alpino. Molti ghiacciai, aggiunge l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, presentano oggi le condizioni tipiche di fine estate in annate relativamente nevose. Probabilmente questa è la previsione degli esperti l'estate 2022 segnerà bilanci di massa negativi in tutti i ghiacciai della Lombardia, con considerevole diminuzione dei volumi e la possibile scomparsa di alcuni ghiacciai di piccole dimensioni.